buongiorno a tutti e benvenuti in questo approfondimento di blender relativo l'illuminazione faccio una breve presentazione mi chiamo enrico e lavoro nel campo della pubblicità da più di 9 anni il mio avvicinamento blender e tutto il mondo del 3d è avvenuto negli ultimi 4 anni perché ho dovuto adattarmi studiando e proponendo proposte multimediale sempre più professionali avanzate blender è un potente software 3d ma può presentare alcune sfide specifiche a livello di illuminazione specialmente per gli utenti meno esperti o per chi ha le prime armi con la creazione di scene 3d realistiche ecco tre problemi comuni legati all'illuminazione con blender punto 1 comprensione delle diverse sorgenti di luce quindi saper distinguere quando usare una luce specifica rispetto ad un'altra punto 2 regolazione posizionamento delle luci in maniera professionale e coerente un posizionamento errato delle luci può portare a risultati poco realistici o poco gradevoli visivamente punto 3 equilibrio dell'illuminazione tra le diverse sorgenti di luce e ombre che i shot ritenuto da molti i miglior software per l'illuminazione offre un sistema di illuminazione basato su hdri e permette di ottenere risultati realistici con relativa facilità quindi lavora direttamente su hdri blender però a differenza di kshot offre maggiore grado di personalizzazione e controllo sull'illuminazione permettendo agli utenti di affinare le impostazioni per ottenere risultati specifici un esempio possono essere i light group o i light linking o anche solo l'utilizzo del light path node ma non preoccupatevi ora andremo a vedere step by step tutto nello specifico ora entriamo in scena e analizziamo subito il primo punto ovvero il motivo per cui sia meglio usare delle area light texture invece di quelle di default in questa scena abbiamo del area light semplicissime di default in cui abbiamo questa posta sul sui lati questa e questa queste due una frontale e una button quindi sotto andiamo momentaneamente a visualizzarle singolarmente partiamo da questa posto sul lato sinistro come vedete non è male però come andremo a vedere successivamente non è neanche poi così professionale comunque in questo momento ve le faccio vedere singolarmente come vedete il risultato come abbiamo detto non è male però presentano delle area queste zone di ombra che alla fine conti non sono poi così professionali il risultato non è per così realistico per questo utilizzeremo le procedural area light texture che adesso andremo a vedere ecco infatti l'esempio nello specifico in questo caso vedete dei plane a cui ho applicato queste area light di default successivamente nel punto 2 andremo a vederle nello specifico quindi cos'è un gradente texture eccetera adesso il più è capire in questo punto il motivo per cui sia meglio le procedure rispetto a quelli default abbiamo le stesse identiche luci posizionate esattamente dove sono quelle di default ecco infatti l'esempio pratico area light default post esattamente dove sono questi plane però come potete vedere il risultato soprattutto in questa parte frontale è totalmente diverso ecco infatti la differenza tra i due light default sulla sinistra e render del procedure area light sulla destra come vedete le zone d'ombra sono molto più più marcate sulla parte destra il risultato è molto più professionale realistico questo è il primo esempio andiamo a vedere il secondo esempio in questo secondo esempio la logica è sempre la stessa in questo caso si tratta di una scena semplicissima di un asfalto con delle sfere poste sopra e come potete vedere il risultato non è male è abbastanza realistico le luci usate di default sono delle area in alcuni punti risulta poco realistico utilizzando quindi eccolo qua nella parte sopra nella parte top utilizzando questo plane quindi la classica gradient texture che poi andremo a visualizzare il risultato sarà molto più realistico le come abbiamo detto prima le zone d'ombra saranno accentuate tutti i materiali tutte le mesh reagiranno in maniera diciamo più realistica il riflesso della luce comunque piccola premessa per ottenere una scena realistica serviranno dei materiali realistici quindi professionali che possono essere materiali procedurali oppure l'utilizzo di pbr come in questo caso questo asfalto e soprattutto l'utilizzo di mesh professionali in questo caso abbiamo questa ruota la mesh è comunque molto complessa e quindi i tipi di riflessione su questa mesh saranno più realistici quindi molte volte ho dei materiali professionali però ho una mesh molto semplice e quindi magari l'illuminazione non funziona per questo motivo ecco la differenza sulla sinistra abbiamo le light di default e sulla destra la semplicissima area posta sul top della scena quindi procedural area light in questi punti l'ombra è accentuata risultato molto più realistico e nel render di sinistra abbiamo comunque una luce sparata sulla scena e la riflessione anche solo della pozzanghera sarà molto più gradiente sulla parte destra e sarà un risultato molto più cinematografico l'obiettivo del 3d nella maggior parte delle volte è comunque ottenere il risultato più realistico possibile ok ora passiamo direttamente al punto 2 ovvero andiamo a creare una procedural area light partendo da zero in questo caso andremo a analizzare sette esempi come abbiamo già detto l'area light texture viene comunque creata partendo da un plane facciamo proprio l'esempio partendo totalmente da zero creiamo il nostro plane questo plane in questo caso vado a isolarli per isolare gli altri plane creiamo quindi questo plane creiamo un nuovo materiale andiamo a crearlo da zero andiamo a creare un nodo emission semplicissimo a questo nodo emission con ctrl t creiamo il mapping e varie texture coordinate colleghiamo object nel mapping l'image texture lo eliminiamo e ci colleghiamo direttamente un gradient texture il gradient texture andiamo a vederlo nello specifico sarà semplicemente un gradiente il gradient texture può essere utilizzato per simulare effetti di luce e ombra su oggetti o scene ad esempio può essere utilizzato per simulare un effetto di ombreggiatura o un'illuminazione più dettagliata su una superficie quindi in questo caso come vedete abbiamo il gradiente quindi parte sinistra abbiamo il colore nero parte destra il colore bianco attraverso il mapping potremo appunto riportare questo gradiente come vedete sull'esempio nella scena comunque posta sulla sinistra avete un esempio di applicazione di questa luce quindi il gradiente già inizierà a vedersi il risultato sarà già comunque interessante rispetto a una luce di default sparata il colore nero logicamente sarà la zona nera e quindi dove la luce non si vedrà la zona bianca sarà appunto la luce e si vedrà tra il gradient e l'emission ci mettiamo un color ramp per definire meglio la maschera come vedete il color ramp andrà a regolare meglio questa maschera rendendola volendo anche meno netta come vedete in questo caso il gradiente è meno netto così sarà totalmente poco gradiente e quindi il risultato sarà ancora più netto come vedete in questo caso in questo in questa riflessione di questa mesh in questa superficie il risultato è già molto più comprensibile in questo modo noi quindi adesso andremo a vedere l'esempio di varie scene però partendo sempre con un gradient applicato quindi alla base avremmo sempre il gradient texture il mapping ricordiamo object collegato al mapping il color ramp per definire la maschera l'emission e come potete vedere abbiamo un mix shader dove ho nel primo scelta l'emission nel secondo scelta un diffuse a rognes a1 il colore è nero ricordiamo che il nodo diffuse è estremamente versatile e consente agli artisti di definire il colore e le proprietà di riflessione diffusa di un materiale in questo caso avremo abbiamo applicato un nodo geometri attraverso il faccio di questo mix shader tramite l'attributo back facing questo era il primo esempio con un gradiente texture con l'attributo easing ovvero il terzo attributo di questo gradiente texture andiamo a vedere la seconda scena utilizzata usando però in questo caso un gradiente texture applicato con un attributo linear ovvero il primo analizzando in questo caso i plane logicamente come come abbiamo detto prima il gradient sarà diverso in questo caso essendo linear avremo una linearità in questa maschera quindi parte sinistra bianca e parte destra nera quindi le divisioni della luce saranno comunque nette vediamo l'esempio isolando le luci abbiamo la luce posta sul lato sinistro laterale quindi stacco netto tutta la parte dietro nera parte dietro e parte laterale rivediamo in questo caso l'esempio con il gradient texture a easing easing differenza di linear è più gradiente vediamo l'esempio per capirlo meglio vedendo analizzando questi render questo che vedete è gradient easing con l'attributo easing questo invece è linear easing come vedete è molto più gradiente a differenza di linear che sarà molto più netto quindi avrà quasi dei tagli netti easing in questo caso risulterà un risultato più professionale e più azzeccato perché seguirà diciamo più il flusso di queste superfici andiamo a vedere il terzo esempio utilizzando quadratic logicamente adesso stiamo utilizzando delle texture procedurali quindi queste luci possono essere modificate all'infinito addirittura possiamo scalare questi plane e quindi logicamente il risultato cambierà la cosa positiva è che usando utilizzando sempre delle texture procedurali noi avremo sempre il controllo di tutto non avremo bisogno di texture esterne in questo caso abbiamo utilizzato un gradient texture setto su quadratic quadratic sarà ancora più gradiente rispetto agli altri due attributi vediamo la differenza tra quadratic molto gradiente e un leaner andiamo a vedere quarto esempio in questo caso abbiamo un attributo a quadratic sphere in questo caso replicherà un faretto di una luce professionale come vedete è molto interessante le zone d'ombra diventano già molto più cinematografiche in questo caso stiamo proprio emulando uno studio fotografico e già in questo caso le zone d'ombra diventano molto interessante e molto più emotive quindi parte sinistra come vedete molto interessante e molto emozionale e un'aggiunta di questa parte possa sul lato destro differenza tra gradient quadratic sphere e un gradient quadratic come vedete finora il quadratic sphere in questa scena è quasi è forse quello più più azzeccato perché comunque va a riflettere bene tutte le superfici e accentua bene questa faccia logicamente ogni tipo di illuminazione deve avere un significato deve raccontare una storia o comunque deve descrivere un'emozione una scena o anche soltanto deve enfatizzare i punti interessanti di questa mesh vediamo il quinto esempio con un gradient texture settato a spherical spherical a differenza del quadratic sphere sarà molto meno netto questo qua come vedete è spherical questo invece è quadratic sphere quindi molto più netto spherical come potete immaginare sarà ancora più netto quindi la logica più o meno è sempre la stessa quadratic sphere avrà un tipo di gradiente maggiore mentre spherical andrà a accentuare di più queste zone di luce e ombre logicamente andrà a replicare un faretto di una luce da studio andiamo a vedere velocemente il diagonal quindi andrà a staccare questo gradiente in linea a livello diagonale ecco l'esempio con il diagonal lo spherical di prima e il diagonal avrà quindi una divisione geometrica di questa luce l'ultima luce che andremo a vedere è il noise light semplicemente ho messo un texture noise ricordiamo che il noise texture è ampiamente utilizzato per generare texture casuali che simulano superfici come pietra, marmo, legno, nuvola eccetera e altro ancora la casualità e l'irregolarità create da questo tipo di texture contribuiscono a rendere le superfici più realistiche e dettagliate quindi in questo caso l'effetto di casualità sarà quasi come un elemento astratto quindi meno geometrico però renderà la scena molto interessante quindi in questo caso avremo zone di luce casuali e potranno rendere la scena più interessante il noise texture è comunque una texture molto potente quindi bisogna comunque controllarla e saperla controllare ora che abbiamo analizzato come creare proceduralmente delle area light con blender andremo a vedere come creare delle area light texture quindi importando dei jpeg in questo caso abbiamo questa scena in questa scena ho applicato delle area light con dei jpeg applicati andando a vedere il materiale semplicemente ho un principal con un base color nero rockness specular.5 in questa texture logicamente l'ho applicata all'emission a livello di color e a livello dell'alpha ho collegato un color ramp per gestire meglio la maschera quindi settaggio semplicissimo e base di una light texture andiamo a vedere brevemente come applicare questa texture che andremo a vedere in questo caso è questa qui quindi è un gradiente orizzontale andiamo a vedere come ricrearla con photoshop bene come potete vedere avremo delle sfumature semplicissime quindi lineari, radiale o utilizzando un riflesso partiamo dalle lineari molto semplicemente ho creato una sfumatura semplicissima un gradient a questo gradient ho applicato un colore nero nel primo colore e un colore bianco quindi sul secondo molto molto semplicemente attraverso l'angolo potrò regolare semplicemente questa texture logicamente con la modalità procedurale di blender ci metterà un po' di più in questo caso è molto più semplice possiamo addirittura modificare la scala quindi rendere il nero, avvicinare diciamo il nero come se fosse un color ramp e insomma la logica è molto molto più veloce, più semplice io logicamente in questo approfondimento userò principalmente dei jpeg quindi delle area light texture esterne quindi delle immagini esterne per creare una sfumatura radiale basterà andare su gradient o sfumatura cambiare i colori quindi come abbiamo fatto prima mettere il bianco e il nero andare su linear, radial e come potete vedere avrò la mia sfumatura radiale andiamo a invertire la maschera e come potete vedere assomiglia già al faretto visto prima l'abbiamo fatto però in 10 secondi invece che rifare il nodo e tutto quindi è tutto molto molto più veloce andiamo a modificare in questo caso la sfumatura come potete vedere il faretto il bianco si avvicina al nero e quindi in questo caso lo stacco sarà molto più netto ecco infatti altri due esempi sfumatura 1 sfumatura 2 per quanto riguarda l'ultima luce ho utilizzato il quarto attributo a livello di style questo è un esempio ecco di come ho applicato queste luci andiamo a vedere adesso in scena come adattarle in questo caso abbiamo quindi applicato questa luce in questo plane molto semplicemente andiamo a rivedere come ho applicato questa luce è un plane semplicissimo a questo plane vado a copiare un attimo il materiale come vedete ecco l'immagine viene adattata esattamente a questo plane quadrato potrò andare a considerarlo quindi come una mesh semplicissima se andrò a eliminare la faccia avrò soltanto metà di questa immagine e quindi il riflesso posto sulla parte sinistra sarà totalmente nero perché logicamente non c'è nulla facendo così avrò comunque un controllo totale sempre su queste luci e potrò generare quindi infinite combinazioni in questo caso andiamo a vedere questa luce eccola molto interessante in questo caso è molto emozionale molto cinematografica la parte laterale in questo caso è molto interessante abbiamo utilizzato la stessa identica luce e la parte frontale quindi illuminazione di questa faccia quasi frontale frontale e laterale sarà perfetta con questo tipo di immagine andiamo a vedere anche quest'altra luce applicata in questo caso è l'ultima luce che abbiamo analizzato quindi questa per ricreare questo tipo di luce il metodo sarà semplicissimo andiamo a creare un UV sphere scaliamo andiamo a eliminare i vertici potremmo avere già questo tipo di luce quindi sarà una luce circolare su tutta la mesh il risultato comunque finale logicamente è il più professionale per quanto riguarda il plane ho utilizzato questa luce alla base che comunque l'ho applicata a emission quindi una radiale semplicissima a cui ho collegato ecco l'alpha di riferimento e il color amp attaccato all'emission il color amp in questo caso essendo attaccato al colore dell'emission potrò andare a modificare il colore e rendere questo plane di un altro colore quindi creare delle sfumature molto interessanti per quanto riguarda i rockness ho creato questa noise base collegata a questo color amp quindi ho generato un tipo di riflessioni differenti in queste zone di bianchi e neri questo era l'esempio di come si applica un'area light texture ma adesso andremo un po' più nello specifico quindi passiamo al quarto punto ovvero come ottenere un controllo totale di una luce a livello di color e strength in questo caso abbiamo questa scena in cui abbiamo tre sfere e una texture area light texture applicata abbiamo un materiale glass per la prima posta sulla destra quella centrale è un principal semplicissimo con un rockness a zero e la prima posta sul lato sinistro è un principal air semplicissimo e in questo caso la logica come abbiamo detto è ottenere il controllo totale di color e strength a livello di color abbiamo questa luce quindi una area light jpeg a cui ho applicato il color tramite l'emission questo emission sarà collegato a un nodo transparent attraverso mix shader l'emission sarà nello shader 2 e il transparent nello shader 1 nodo fuck sarà questo color ramp il color ramp logicamente come abbiamo detto gestirà la maschera quindi fuck del mix shader mentre per quanto riguarda il color quindi questa è l'anteprima del texture ho applicato questo rgb curve che servirà per gestire meglio appunto il colore di questa maschera ecco un esempio spostando un po' di curve per quanto riguarda invece lo strength che questa è infatti la cosa molto interessante andremo a usare questo nodo chiamato area light strength in questo area light strength come vedete ho 4 attributi più 1 lo strength di default diffuse specular transmission e indirect questi 4 attributi saranno e gestiranno appunto i vari diffuse specular transmission e indirect facciamo un esempio mettendo tutti i 4 attributi a 0 logicamente avrò la scena totalmente nera andando a aumentare l'attributo del diffuse avrò andrò a illuminare soltanto il diffuse di questa scena quindi avrò un controllo totale di tutti i materiali riflessioni di questa scena e avrò quindi un controllo totale quindi diffuse andrò a illuminare solo il diffuse di questa scena specular andrò a illuminare solo la specularità di questi materiali specifici di queste di queste mesh trasmission sarà appunto i valori relativi ad esempio l'acqua e indirect sarà appunto il tipo di riflessione di luce indiretta lo strength gestirà un po' tutto alla base sarà un nodo quindi di default che gestirà il value generico di questo strength ma andiamo a vedere esattamente da cosa è composto questo materiale ricordiamo che sulla nostra pagina di gumroad potete trovare i 6 jpeg delle area light texture i file di photoshop aperti e il due scene di blender del file del tutorial ma andiamo a analizzare nello specifico questo nodo e andiamo a vedere come l'abbiamo creato andiamo a creare un light path in questo light path mettiamo un math in questo math mettiamo less zen e colleghiamo glossy deep in questo primo attributo di questo value inseriamo invert color colleghiamo less zen chiamo mix color colleghiamo il less zen nel factor di questo mix color e lo chiamiamo diffuse quest'altro nodo lo duplichiamo e lo chiamiamo specular duplichiamo e lo chiamiamo transmission colleghiamo l'invert nel factor dello specular inseriamo il diffuse nell'attributo a dello specular colleghiamo lo specular all'attributo a dello trasmission l'invert lo duplichiamo e inseriamo il collegamento al factor del trasmission quest'altro trasmission lo chiamiamo indirect colleghiamo il trasmission all'attributo a dell'indirect duplichiamo il less zen lo duplichiamo ancora e lo cambiamo in grader zen colleghiamo il less zen nel color dell'invert color mentre il grider zen lo colleghiamo al factor dell'indirect colleghiamo il ray dip dell'ipat al primo attributo del grider zen mentre l'attributo trasmission dip lo colleghiamo al primo attributo del secondo less zen selezioniamo tutti i nodi e con ctrl g creiamo il nostro nodo di collegamento colleghiamo group input quindi colleghiamo a b del diffuse il b dello specular il b del transmission e il b dell'indirect colleghiamo adesso l'uscita dell'indirect al group output come potete vedere però in questo caso le uscite sono di colore giallo questo vuol dire che sono uscite di colore dobbiamo cambiarle in uscite di value quindi andremo a selezionarle manualmente e in type metteremo float andiamo a modificare anche tutti gli altri float e in questo caso l'uscita float sarà quindi una sorta di value come abbiamo visto prima andiamo a modificare anche l'uscita di group output in uscita sempre a livello di value in questo caso andiamo a modificare i nomi quindi strength quindi base avrà il controllo del primo attributo quindi l'attributo a del diffuse il diffuse sarà l'attributo b di questo diffuse quindi il primo che controllerà il diffuse lo specular avrà il controllo b dell'attributo di questo specular quindi specular il transmission sarà logicamente l'attributo b di questo transmission ovviamente l'indirect sarà l'attributo b di questo indirect facendo così avrò quindi questo controllo totale la cosa interessante da considerare è che una volta che ho piato questi nodi io potrò creare una luce di default quindi un'area light semplicissima andare sulla luce andare in use nodes logicamente qua avrò l'emission in questa emission io potrò semplicemente copiare questi due nodi potrò andare in questa luce incollarli e ogni volta collegare questo strength a questo strength di questa emission facendo così anche con una luce di default io potrò comunque avere un controllo maggiore il risultato comunque sarà molto molto più professionale e quindi potrò gestire tutti i miei vari attributi questo nodo sarà la base per un illuminazione professionale soprattutto in qualche scena complessa bene adesso andiamo a vedere qualche esempio pratico di applicazione di light su qualche scena che abbiamo creato andremo a vedere anche i light group con il compositing di blender partiamo dall'esempio di questa scena qui avremo questa scena dove abbiamo soltanto del area light texture applicate abbiamo queste due luci poste sul lato sinistro quindi destra sinistra facendo in questo modo potrò gestire attraverso queste cartelle i tipi di illuminazioni specifiche avendo quindi creato delle cartelle solo per quanto riguarda l'illuminazione laterale avrò comunque un controllo totale e sarà molto più facile gestire il tipo di illuminazione complessiva quindi in questo caso lo chiamate esterne queste laterali sono le prime laterali mentre le altre laterali più frontali saranno queste altre che andranno a generare quindi dei dettagli interessanti in questa mesh abbiamo aggiunto questa frontale che andrà ad illuminare la parte frontale di questa mesh e andrà a gestire questi elementi di illuminazione su questa parte di metallo e poi abbiamo le classiche luci top e bottom quindi sopra sotto potendo andare a creare quindi dei tipi di illuminazioni molto interessanti e specifiche quindi le zone d'ombra logicamente saranno molto più interessanti e professionali unendole quindi tutte avremo un'illuminazione ultra professionale l'ultimo plane che abbiamo utilizzato l'abbiamo visto prima quindi sarà un elemento quindi un tipo di illuminazione circolare come abbiamo visto prima che possiamo comunque spostare potremo quindi in questo caso avendo un plane in questo caso potremo andare a creare un tipo di illuminazione un tipo di animazione con questa luce ma quello che ci interessa adesso è andare a capire il light group il light group si ottiene in questo modo bisognerà andare nella finestra di view layer il light group andremo a creare una nuova cartella andandola a chiamare esattamente come l'abbiamo chiamata precedentemente quindi in questo caso esterne andrò a chiamarla esterne andrò a creare più cartelle rinominandole tutte esattamente come l'abbiamo rinominate qua le ho numerate per un motivo adesso andremo a capire quindi prima di tutto andrò a creare 5 cartelle in queste 5 cartelle nella collection andremo a cliccare sulle singole sui singoli plane questo plane andremo in object shading e nella voce light group andremo a cliccare la cartella di riferimento quindi in questo caso la cartella di riferimento è un esterne andremo inserire un esterne anche nell'altro plane facciamo lo stesso anche per quanto riguarda le altre plane quindi tre laterali 5 frontale completo 5 frontale completo sopra sotto andiamo a mettere sopra sotto e l'ultima è l'esterno sfera esterno sfera facendo in questo modo se andiamo nel compositing avremo nel render layers avremo tutti questi light group specifici andremo a creare in questo caso un nodo di the noise classico collegato al primo image mentre per quanto riguarda gli altri attributi quindi esterne laterali eccetera andremo a aggiungere dell'input andranno poi creare questi render bene in questo file output andiamo a modificare adesso i nomi relativi a queste light group quindi questi collegamenti e metteremo esattamente lo stesso nome che abbiamo utilizzato prima quindi esterne in questo momento andiamo a eliminare gli altri attributi che non ci interessano utilizziamo soltanto i nomi dei light group andiamo a creare altri input ecco il motivo per cui ho creato e ho numerato queste cartelle per avere molto più ordine per quanto riguarda il file output sarà logicamente più facile andare a capire esattamente a quali gruppi di cartelle sto avrando quindi 3 2 4 e 5 bene adesso andiamo a renderizzare e vediamo le varie immagini che abbiamo renderizzato logicamente abbiamo rendere definitivo e abbiamo esattamente tutti i tipi di illuminazione specifici facendo così avremo controllo totale sull'illuminazione complessiva andiamo a vedere come applicare questi render nel modo miller con photoshop andiamo a inserire questa immagine di default come prima cosa la duplichiamo e andiamo a modificarla con camera raw bene ora andiamo a vedere come l'abbiamo modificato abbiamo modificato un po' le esposizioni un po' i contrasti molto semplicemente abbiamo modificato un po' i colori l'abbiamo reso un po' più giallino e come ultima cosa abbiamo modificato un po' le curve abbiamo modificato quindi un po' le esposizioni bianchi neri i medi eccetera questo è il dopo e questo è il prima va bene insomma ci accontentiamo andiamo magari a modificare ulteriormente un po' la saturazione ulteriore eccolo lo rendiamo un po' più eccolo un po' più sul sul rosso già così ci piace molto di più andiamo a illuminarlo ulteriormente ecco ecco adesso infatti è molto più professionale questa cartella di questi due livelli le rinominiamo e chiamiamo modifica scriviamo modifica modifica 1 ecco il prima ecco il dopo come ultima cosa adesso inseriamo i 5 render singoli questi 5 render li richiediamo in una cartella andiamo a creare una cartella con il tasto nel primo livello questo vuoto creiamo clicchiamo il tasto control ci andrà a creare la selezione andiamo su questa cartella e clicchiamo maschera in questo caso avremo creato la nostra maschera di riferimento in questa cartella avremo logicamente tutti i render applicati a un'unica maschera nell'ultimo livello creiamo una nuova tinta la mettiamo sul nero andiamo sui 5 render cambiamo il tipo di illuminazione su scolora o screen in inglese in questo caso avremo esattamente i render di partenza facendo in questo modo potremo intanto la cartella modifica 1 la mettiamo sopra la teniamo nascosta e in questi 5 render potremo andare a fare le modifiche specifiche per ogni singola illuminazione se quindi un'illuminazione sarà troppo alta potremo andarla abbassare o modificare in questo caso la luminosità o il contrasto decidiamo che la luce esterna è troppo alta quindi potremo semplicemente abbassarla con opacità andiamo a inserire sopra e sotto in questo caso ci piace questo tipo di illuminazione andiamo a creare un livello esterno andiamo a accentuare questa illuminazione top e bottom facendo così laterali avremo un controllo totale su tutta la scena e sarà logicamente con photoshop molto più semplice da gestire in questo caso aumentiamo un po' esterno sfera logicamente questa era la parte relativa alla sfera lo abbassiamo e l'ultima è la luce frontale luce frontale in questo caso è troppo sparata andiamo applicarci un'esposizione per regolarla meglio eccolo in questo caso avremo controllo totale su questi cinque render duplichiamo la cartella andiamo a convertire in oggetto avanzato questo è il nostro oggetto avanzato e adesso finalmente possiamo premere shift contro la andare in camera raw applicare i settaggi predefiniti quindi quelli fatti prima mi adatterà esattamente ai settaggi fatti prima facendo in questo modo riclicco la cartella dei cinque render abbasso questo livello ulteriore perché è un po' troppo ci sta ma è troppo saturo riapplichiamo la modifica uno che avevamo modificato precedentemente quindi rassumendo modifica uno saranno i due le due modifiche quindi come renderlo più sul renderlo un po' più rossastro diciamo il livello dei cinque render con le modifiche luminosità contrasto eccetera il livello duplicato di queste cartella aumentando un po' la saturazione applicando i settaggi di camera precedenti il livello modifica e il nostro render diciamo che a livello base giusto perché per un attimo è finito creiamo una cartella per vedere il prima e dopo questo è chiamiamolo definitivo questo sarà il settaggio definitivo prima e questo questo è diciamo il render che abbiamo fatto prima e questo è il render con l'illuminazione specifica quindi il dopo eliminiamo per andare a vedere addirittura come era il render all'inizio quindi dopo inizio render senza settaggi senza niente solo col the noise e questo è il dopo quindi prima e dopo logicamente è una scena totalmente diversa questo sarà un po' la base per capire un attimo il light group logicamente si possono fare decimila modifiche con photoshop e oggi andremo a vedere soltanto come funzionano questi settaggi si potrebbe anche andare a creare qualche maschera relativa a ammigrare questo quadrante a questi numeri renderli un po' più un po' meno saturi cambiare colore insomma le modifiche sono infinite oggi andremo solo a vedere le basi insomma dell'illuminazione bene adesso andremo a aprire la nuova versione di blender la 4.0 se non ce l'avete potete scaricarla logicamente da blender la 4.0 offre una nuova implementazione ovvero il light linking sempre nella schermata nella finestra di object troverete il light group e il light linking faccio una breve panoramica perché è molto interessante e modificherà totalmente il modo in cui abbiamo concepito l'illuminazione fino adesso praticamente in questa scena abbiamo un plane un cono un cubo una sfera in breve selezionando l'area quindi questa andando su light linking andando a cliccare new potremo andare a generare un nuovo gruppo in questo nuovo gruppo potremo andare a selezionare le singole mesh quindi in questo caso selezionando la cartella vado sulla singola sulle tre mesh trascino queste singole mesh dentro facendo così io avrò esattamente il controllo a livello di illuminazione staccando meno potrò decidere se questa luce illumina o no il plane logicamente in questo caso decido che questa luce deve illuminare per forza tutte le mesh però decido anche la isolò momentaneamente di creare una seconda luce però in questo caso io decido di creare una luce con una tonalità più sul rosa viola rosa in questo caso però decido che le mesh coinvolte saranno soltanto il cubo e il cono come faccio rifacciamo il procedimento andiamo a cliccare new inseriamo il cubo e il cono quindi si usiamo alla luce andiamo cono trascino inserisco dentro cubo e cono come vedete ho il controllo totale su questa luce andiamo a inserire anche la luce uno ecco questa modifica questa implementazione cambierà totalmente il modo in cui abbiamo concepito l'illuminazione perché avrò la gestione totale di ogni singola illuminazione e questa cosa qua sarà molto utile per quanto riguarda le animazioni perché avrò veramente un controllo totale e quindi ogni singola mesh come abbiamo visto precedentemente per quanto riguarda l'orologio io posso decidere in un'eventuale animazione di andare ad illuminare solo una porta specifica ad esempio in quel caso lì potevo modificare soltanto il quadrante senza andare a illuminare la parte metallica siamo quasi alla fine andiamo a vedere brevemente anche questa altra scena in questo caso si tratta di una macchina e un tipo di illuminazione professionale su questa macchina come abbiamo già detto abbiamo le nostre luci in questo caso daremo solo una panoramica veloce sul posizionamento di queste luci il procedimento in questo caso è molto semplice non ho neanche usato il nodo perché comunque il risultato era già molto professionale del suo quindi vi faccio vedere brevemente logicamente qua non ho utilizzato neanche il light linking neanche il light group e ho solo utilizzato i colgamenti di glossiness diretto glossiness indiretto glossiness color sarà l'ultima cosa che andremo a vedere oggi per migliorare diciamo il nostro rendering quindi ritorniamo in scena abbiamo quindi creato il primo plane andiamo nella modalità di shading come vedete è una luce graduale però l'effetto logicamente su questa mesh essendo comunque professionale è molto molto interessante è molto cinematografico e funziona a grande logicamente ogni tipo di di luce deve avere un senso non potete mettere una luce a casaccio deve essere giustificata la difficoltà dell'illuminazione logicamente è rendere una scena realistica emozionale e comunque con un senso però già con queste area light potete comunque modificare totalmente i vostri rendering quindi vediamo il primo per quanto riguarda il secondo ho usato questa luce per illuminare questa parte quest'area di questa mesh ho utilizzato questa eliminiamo ho utilizzato queste altre luci sempre replicano comunque una sorta di studio in questo caso mi piaceva molto l'effetto di questa luce su questo glass e quindi l'ho utilizzato per accentuare un po' queste linee come vedete il cofano avrà quindi questi giochi di bianchi neri che in questo caso funzionano a grande quindi il mio consiglio è anche di giocare testare perché non esiste un tipo di illuminazione giusta e predefinita per una scena ultime le luci utilizzate sono queste altre in modo tale da creare un tipo di movimento per questo glass avremo la scena finita molto molto interessante ecco questo sarà il render definitivo come vedete tutti i movimenti giochi di luce eccetera sono esattamente come li volevamo però l'ultima cosa che ci interessa è andare a inserire i tre livelli di glossiness andando nella festa di shading potremo andare in render pass e andare a visionare i glossiness i tre livelli di glossiness quindi glossy indirect quindi riflessioni indirette di glossiness glossiness diretto i glossiness color ci andranno ad aggiungere un tipo di glossiness extra in una scena in questo caso andando nel compositing andremo sempre nel nostro file output andremo a creare tre input nuovi e quindi glossiness diretto indiretto e color le andremo a collegare in questo file output andiamo a rinominarli ritornando a noi siamo in photoshop l'unico modo per applicarli in maniera corretta sarà intanto ritorniamo a visionarli questo è glossiness diretto questo è glossiness indiretto e questo è glossiness color andiamo a selezioniamo tutti e tre andiamo a creare una cartella questa cartella modifichiamo l'opacità in luce soffusa apriamo la cartella inseriamo un'altra cartella mettendo glossiness diretto indiretto in una cartella mettendo come opacità multipla in questa cartella clicchiamo su glossiness diretto e applichiamo luce soffusa chiudiamo la cartella chiudiamo l'altra e questo sarà il glossiness come potete vedere diminuiamo l'opacità aiuterà questo render vedete come si accende come rende la scena molto più realistica andrà a accendere tutte le regolazioni di glossiness questo piccolo trucco potrà andarvi a salvare la scena questo è un esempio di come può essere una scena da un dopo un prima questo è il prima e questo è il dopo come potete vedere tutte le luci tutti i tipi di glossiness tutti i bianchi neri tutte le ombre vengono enfatizzate tantissimo bene adesso andiamo a vedere l'ultima cosa ovvero qualche trucco e suggerimento su come migliorare un'illuminazione primo consiglio che vi do è quello di andare a usare applicare un materiale unico allora questa è la scena scena finita di questa poltrona andrò a creare un materiale unico quindi vado a selezionare la mia mesh isolo tutti gli altri elementi creo un duplicato con shift d vado a creare una nuova collezione chiamandola mesh unico colore isolo la mesh di prima vado a applicare tutti i modificatori collegati vado a con coltronj a creare un'unica mesh vado ad eliminare tutti i materiali applicati quindi in questo caso non ci saranno materiali applicati ecco infatti l'esempio vado su questa mesh vado a fare nuovo materiale in questo nuovo materiale andrò a applicarci un tipo di materiale nero o comunque scuro non troppo nero quindi sul grigio grigio scuro con una rockness a punto 136 usando quindi un unico colore potrò andare a regolare esattamente e capire esattamente dove saranno le riflessioni su questa mesh facendo in questo modo come potete vedere allora quindi sarà molto più facile capire dove va a illuminare questa mesh perché comunque è un materiale che comunque ha un rockness basso e quindi riflette tantissimo metallico sarebbe troppo perché va a spegnere un po' la luce perché questo non l'ho utilizzato questi qua quindi sono i settaggi di questo materiale base come potete vedere sarà molto più facile gestire tutto quindi in questo caso ho la luce di destra la luce quindi un po' più laterale voglio andare a illuminare solo questa parte sotto di questo appoggio testa allora in questo caso potrò farlo in modo molto semplice potrò anche quindi creare un'animazione capire esattamente dove va a illuminare questa luce cosa va a illuminare questa luce stessa cosa sulla parte laterale andiamo a vedere adesso il risultato finale eccolo facendo così capisco esattamente cosa vado a illuminare alla fine basterà semplicemente cliccare sulla mesh elimina inserire l'altra mesh finita inserire l'altra mesh e la scena sarà pronta un altro consiglio che vi do è quello di utilizzare i track 2 io ho questa mesh andiamo a eliminare andiamo a togliere lo spondo in questa mesh creo un materiale quindi una sorta di gold applico le mie luci quindi un'area semplicissima top andiamo a creare una camera alziamo tutto stacchiamo ok bene questa luce andiamo a modificare un attimo andiamo a modificare un attimo lo spread come potete vedere eccola in questo caso magari decidiamo di farne una laterale isoliamola andiamo a modificarla leggermente eccola aumentiamo eccola ecco in questo caso abbiamo fatto tutto manualmente quindi può risultare un po' complicato il modo più veloce per diciamo creare un tracking con questa mesh il modo migliore sarà andare a aggiungere un oggetto di constrain ovvero il track to il track to basterà siamo abbiamo sezzato la 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 logicamente sarà in funzione di questa monkey quindi useremo come target col contagocce questa monkey facciamo lo stesso anche con le altre due luci come potete vedere abbiamo traccato le nostre luci in base all'oggetto logicamente isoliamola un attimo logicamente adesso quando andrò a spostare le mie luce seguirà esattamente l'origine di questa mesh quindi la monkey di default ha l'origine sul proprio asse quindi questo la luce andrà esattamente a essere traccata su quest'origine questo sarà molto interessante e molto più semplice logicamente col track sarà molto più semplice fare delle animazioni di una luce specifica quindi da qua la luce può spostarsi e arrivare qua sarà molto interessante sarà molto più facile gestire tutto gestire soprattutto l'illuminazione ve lo consiglio facciamo un esempio in questo caso la luce traccata qua però magari io volevo spostarla un po' più avanti questa luce andrà esattamente a muoversi in base all'origine il risultato finale potrebbe essere molto interessante eccolo possiamo anche duplicarla logicamente se andiamo a duplicare una luce seguirà esattamente lo stesso identico modificatore quindi sarà sarà traccata automaticamente in modo tale facendo così creare un tipo di illuminazione professionale sarà molto molto semplice in questo caso l'illuminazione è carina e l'abbiamo fatta in due secondi logicamente spostando la mesh sposterò anche le luci perché l'origine si muoverà bene l'ultimo esempio di oggi sarà quello di utilizzare il black cardboard semplicemente sono plain neri replicano un po' i pannelli da studio in questo caso abbiamo un principo semplicissimo in questo caso è questo è il principio della 4.0 quindi non è normale vederlo un po' diverso però alla fine ho utilizzato un base color normalissimo e un rogness a 1 quindi semplicissimo potete anche usare un diffuse semplicemente nero e rogness a 1 sarà la stessa identica cosa in questo caso quindi i black cardboard che andremo a isolare in una cartella ecco andranno a generare delle zone di ombre aggiuntive quindi potranno in questo caso io ho un word ho uno sky texture applicato infatti come potete vedere abbiamo il nostro sky e un sun quindi luce diurna questi black cardboard andranno a simulare delle altre delle altre rocce che in realtà non ci sono la differenza molto semplicemente è questa qui questa è la scena senza e questa la scena con senza con senza con sarà molto più realistico soprattutto andrò ad aggiungere ombre e realismo in queste zone d'ombra della mesh in una scena tipo roccia e zone d'ombra devono esserci la luce solare non può essere sparata bene l'approfondimento è finito spero possa essere servito a qualcuno e niente buon studio o o Grazie a tutti.